E' una riunione molto importante, molto significativa, una settantina di persone, molti giovani, oltre 12 esponenti di Belluno Radici.net che erano presenti fisicamente, delle testimonianze molto ma molto interessanti, va ringraziato sicuramente la DBA dei fratelli De Betin per il sostegno concreto, ma anche per l'intervento che ha aperto i lavori e soprattutto anche la presenza massiccia dei vertici dell'Associazione e del Consiglio Direttivo dell'ABM, ovviamente presente con il nostro direttore. Cosa che è stata molto gradita è stata la richiesta di poter partecipare da parte del responsabile della consulta giovani del Cadore, Baldovin, che è intervenuto e ha apprezzato molto questo lavoro che stiamo facendo da 8 anni in questo settore specifico di Belluno Radici.net e sicuramente sarà anche per noi come associazione bellunese nel mondo una risorsa da coinvolgere ancora nei prossimi mesi.